Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo che sta piovendo su gran parte della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la canteristica sulla Firenze Mare e per lavori di installazione delle barriere antirumore, dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la stazione di Chiesina Ozzanese in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Ci spostiamo sulla statale Trebisti Verina, dove segnaliamo scambio di carreggiata tra i chilometri 142 e 146 e chiusura dello svincolo di Madonnuccia in entrata e in uscita in direzione Ravenna. Il provvedimento è in vigore fino al 18 ottobre. Prima di salutarci per il traffico ferroviario e per un guasto tecnico sulla linea regionale, 22.01 Bergamo-Pisa Centrale sta viaggiando con 70 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.